ed eccoci di nuovo insieme cari amici e cari amiche di angoli bene immaginate di masticare i vostri cibi preferiti anche a volte quelli un po più duri senza nessun timore senza nessuna paura per esempio che vi cadano i denti bene tutto questo secondo voi è possibile cercheremo di rispondere a questa domanda dando la linea alla nostra mariella petagini ascoltate ciao dori oggi siamo a caviate dove si trova il centro di implantologia italiana un poliambulatorio all'avanguardia specializzato nella tecnica chirurgico-dontoiatrica grazie alla quale è possibile sostituire i denti mancanti con impianti e denti fissi nell'arco di una sola seduta ne parliamo con il dottor colombo medico chirurgo implantare buongiorno a tutti implantologia italiana nasce con lo scopo di offrire un servizio altamente specializzato e qualificato a tutti quei pazienti tutte quelle persone che richiedono una riabilitazione fissa su impianti cioè quei pazienti che hanno che sono portatori di protesi mobile la classica dentiera o che hanno subito ormai una perdita completa della dentatura in conseguenza di piorrea carie destruenti lavori incongrui precedenti ormai falliti lo scopo è quello appunto di poter garantire una chirurgia minimamente invasiva veloce come tempi in dolore per poter offrire nuovamente un sorriso una masticazione a questi pazienti nell'arco di poche ore al di là della questione estetica è importante per il paziente riabilitare la bocca e riottenere una confortevole masticazione riabilitare una bocca vuol dire che estetica e masticazione devono andare di pari passo non esiste fare un'estetica senza una masticazione controllata e adeguata quindi le due funzioni sono assolutamente da sviluppare contemporaneamente com'è possibile per pazienti magari non più giovanissimi che hanno perso in parte o in toto l'osso andare a riottenere denti fissi e stabili? Allora molti dei pazienti che arrivano nel nostro studio arrivano raccontando una storia di visite precedenti in cui mi è stato detto a queste persone che non hanno più osso per affrontare un intervento di chirurgia implantare in realtà oggigiorno con la tecnologia che si ha a disposizione è possibile inserire impianti anche in situazioni di quella che noi chiamiamo atrofia ossea cioè perdita di osso di una certa entità. Questo perché? Perché con gli opportuni esami radiografici, le TAC, i software che abbiamo a disposizione si possono programmare interventi di inserimento in impianti sfruttando l'osso che si ha a disposizione raggiungendo quelli che si chiamano punti di resistenza ossea. Questo consente di evitare gli interventi di innesti ossei che sono interventi lunghi che richiedono più interventi che costringono il paziente a rimanere per parecchi mesi anche senza denti mentre con questo tipo di soluzione anche nei casi di perdita ossea estrema ci sono tecnologie tipo gli impianti zigomatici o le griglie a giusta osse che consentono di in un unico intervento di riottenere il sorriso e la masticazione fissa senza dovere portare apparecchi mobili o restare senza denti. Quindi la digitalizzazione è una base fondamentale, un supporto? Oggigiorno con quello che abbiamo a disposizione a livello digitale dagli apparecchi radiografici panoramico, le TAC, gli scanner per le prese delle impronte, gli articolatori digitali per il controllo dell'articolazione e della masticazione è possibile arrivare a risultati ottimali anche in situazioni come dicevamo di perdita di osso di una certa entità. Tra i fattori più importanti è la rapidità. Dottor Colombo, come è possibile in un lasso di tempo così breve riottenere dei denti fissi e stabili? La rapidità non vuol dire fare le cose velocemente in modo incongruo. La rapidità vuol dire programmare tutto prima dell'intervento con quello che abbiamo detto che abbiamo a disposizione a livello digitale programmare tutto e quindi arrivare il giorno dell'intervento sapendo dove posizionare gli impianti nel modo corretto quindi fare una chirurgia veloce inserire gli impianti in un macellare, in una mandibola richiede circa un'ora, un'ora e mezza questo consente di avere anche una reazione infiammatoria post intervento contenuta più noi lasciamo il paziente sotto intervento a gengiva aperta quindi con l'osso esposto la reazione infiammatoria è sempre maggiore quindi intervenire velocemente sapere dove mettere gli impianti e come metterli ci consente di fare una chirurgia veloce dopodiché per realizzare i denti abbiamo a disposizione un laboratorio interno altamente specializzato in questo tipo di lavoro lavora esclusivamente su questi tipi di lavoro per cui nel giro di poche ore siamo in grado di offrire una masticazione e un sorriso fisso avvitato sugli impianti garantendo nella prima fase un provvisorio anche di lunga durata il nostro provvisorio è un provvisorio che ha una struttura in titanio interna per cui è un provvisorio che deve durare un minimo di tre mesi che è il periodo dell'ossificazione ma che noi siamo in grado di garantire anche fino a due anni quindi un provvisorio che il paziente avverte proprio come se avesse i propri denti il provvisorio ripristina l'estetica e la masticazione immediata poi dal provvisorio al definitivo durante la fase di ossificazione noi saremo in grado di correggere tutti quelli che eventualmente possono essere i minimi difetti a livello di estetica e di masticazione che si possono riscontrare sul provvisorio il provvisorio viene realizzato immediatamente in un'unica seduta quindi non si fanno prove intermedie di estetica e di masticazione realizziamo tutto su un progetto preliminare il definitivo invece a gengive guarita o impianti ossificati perfettamente ci consente nell'arco normalmente di quattro sedute di poter realizzare tutte quelle che sono le correzioni estetiche necessarie per arrivare al risultato ottimale ecco tornando al discorso dell'estetica c'è anche un fattore di armonizzazione del sorriso per far sì che il paziente torni a sorridere il paziente che ha perso i denti e quindi ha perso osso si ritrova in una situazione anche a livello di tessuti molli l'apre guance con una situazione in difetto quello che si chiama profilo vecchieggiante nel momento in cui si perdono i denti per cui ripristinare i denti e un profilo osseo entro una certa entità ci consente di correggere in parte questo tipo di difetto l'ulteriore passo è quello di intervenire anche a livello estetico sui tessuti molli con una chirurgia una medicina di tipo estetico per eliminare quei difetti a livello del sorriso che eventualmente ci possono essere ci siamo spostati nella sala operatoria per andare a descrivere nel dettaglio quelli che sono gli step di questo tipo di intervento primo tra tutti l'incontro con l'anestesista esatto dopo la fase diagnostica, di visita, esami radiologici progettazione dell'intervento con i software dedicati arriviamo al lato chirurgico prima del lato chirurgico però fondamentale è l'incontro con il professor Fanelli il nostro anestesista, terapista del dolore che effettua una valutazione sullo stato generale del paziente per cui nella nostra struttura siamo in grado di affrontare pazienti anche con patologie complesse infartuati, scoagulati grazie al fatto proprio che esiste un protocollo di visita che consente di mettere il paziente nelle condizioni ottimali per affrontare l'intervento oltre a questo poi c'è il controllo dell'ansia e del dolore il controllo dell'ansia viene effettuato tramite la sedazione cosciente effettuata dall'anestesista durante l'intervento che ha lo scopo di togliere l'ansia, lo stress eliminare la classica paura del dentista mettere il paziente in condizioni di tranquillità il controllo del dolore viene invece garantito oltre dall'anestesia locale effettuata in bocca durante l'intervento dalla terapia antidolorifica effettuata dall'anestesista per via endovenosa durante l'intervento il nostro è un poliambulatorio autorizzato ad effettuare questo tipo di sedazione infatti dottor Colombo spesso il paziente è bloccato dalla paura quindi evita di iniziare a intraprendere questo tipo di percorsi la maggior parte dei pazienti non effettuano interventi a livello della bocca il risanamento della propria situazione orale proprio per una questione di paura è il motivo principale per cui molti pazienti rinviano gli interventi una volta che il paziente è sedato quali sono gli step successivi? una volta che il paziente è sedato viene effettuato l'intervento chirurgico l'intervento chirurgico può essere affrontato o a mano libera cioè intervenendo con delle incisioni sulla gengiva quindi scoprendo l'osso, inserendo gli impianti o con interventi di chirurgia guidata cioè mediante una progettazione preliminare vengo su questi software che abbiamo a disposizione si realizzano queste dime chirurgiche che consentono di posizionare gli impianti senza dover intervenire mediante incisioni e punti di sutura è una chirurgia che viene effettuata in determinate condizioni su pazienti particolari nella radiografia che vediamo alle mie spalle è possibile vedere una varia tipologia di impianti in un paziente con una situazione ossea complessa per cui ad esempio nel superiore mancanza di osso nella zona superiore di destra un impianto zigomatico un impianto trasnasale impianti tiltati cioè angolati messi nelle zone posteriori per evitare il nervo nella zona posteriore e il seno macellare nella zona superiore questo consente di mettere impianti senza fare interventi di ricostruzione ossea posizionare impianti che hanno una stabilità immediata che noi valutiamo con opportuni misurazioni e che ci consente quindi di mettere denti immediati nell'arco di poche ore denti fissi avvitati sugli impianti il paziente non porta mai niente di mobile e non rimane mai senza denti se non quelle poche ore necessarie per la realizzazione della struttura Ecco, e poi quali sono le garanzie che date al paziente? Le garanzie che diamo al paziente sono legate oltre a tutta questa fase di progettazione accurata quindi fare tutto la chirurgia, la progettazione protesica nel modo ottimale quello che poi è fondamentale sugli impianti come sui denti naturali è il mantenimento igienico cioè evitare che la formazione di batteri comporti poi la perdita di osso come può succedere sia sui denti che sugli impianti per cui noi abbiamo un servizio con la nostra igienista che controlla i pazienti periodicamente a livello di igiene e questo per noi è la garanzia che diamo ai pazienti sulla durata degli impianti in qualsiasi momento al minimo segno infiammatorio noi siamo in grado di reintervenire immediatamente con una minima chirurgia per ripristinare una situazione ottimale questo ci dà una garanzia di durata a lungo termine degli impianti grazie dottor Colombo io vorrei ricordare ai nostri telespettatori che lei sarà il volto di riferimento che loro incontreranno nel momento in cui dovessero decidere di intraprendere questo tipo di percorso ringrazio tutti i pazienti troveranno sempre me dalla prima visita fino al lato finale in qualsiasi momento io sono sempre il riferimento per qualsiasi tipo di problematica dovesse succedere nel corso del trattamento grazie Dolores io ti ripasso la linea a presto grazie per essere stati con noi come sempre prima di salutarvi vi ricordo la nostra mail angoli chiocciola espansionetv.it sempre a vostra disposizione angoli tornerà come ogni sera domani alle 19 e tra poco la linea ai colleghi della nostra informazione a presto